I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato su ordine di carcerazione messo ieri dalla procura di Napoli il figlio del boss Giuseppe Marfella. Detto Peppe Maddalena, capo dell'omonimo clan attivo a Pianura e fratellastro di Giovanni Romano detto Maccarone, ritenuto dagli investigatori l'attuale reggente del clan Marfella. Come riferiscono i carabinieri, Mario Marfella, 23 anni, è stato giudicato responsabile di detenzione spaccio di stupefacente commesso a Pianura il 3 marzo 2011. Dopo le formalità di rito in caserma è stato portato nella casa circondariale di Poggio Reale. Il pregiudicato 23enne è stato trasferito in carcere dai carabinieri. Marfella, che era agli arresti domiciliari a quarto in via Casalanno, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per detenzione spaccio di droga e ad una multa di 16.000 euro. Grazie.